Paura questa sera all'ospedale di Castellammare di Stabbia, dove il pronto soccorso è rimasto off-limits per diverse ore per consentire le operazioni di sterilizzazione e ventilazione degli ambienti, mentre il personale è rimasto chiuso nei locali senza entrare in contatto con l'esterno. Ma andiamo ai fatti, caso di sospetta meningite all'ospedale San Leonardo. È morto un ragazzo di 18 anni di Agerole, è successo tutto nel gioco di poco tempo. Sebastiano Petrucci è arrivato ieri pomeriggio intorno alle 17 al pronto soccorso con una forte mal di testa e febbre alta. Nemmeno il tempo di stilare una diagnosi ed effettuare gli esami del caso, che il quadro clinico del ragazzo si è aggravato fino al decesso. Il ragazzo si è sentito male nella mattinata di ieri quando a risveglio è accusato febbre alta. Il 18enne si è curato con un comune antibiotico nel tentativo di far calare la forte febbre, ma la situazione non ha nemmigliorate, anzi il termometro ha continuato a salire, tanto che nel pomeriggio è stato necessario l'intervento del 118, quando è arrivato in ospedale per i medici non c'è stato nulla da fare, nemmeno il tempo di predisporre una cura e immediato è scattato l'allarme. I livelli di precauzione massima sono rimasti fino a tarda notte, presidi allertati, quelli di Bosco Trecase e Sorrento, una vita stroncata nel giro di poco meno di un'ora che deve essere comunque ancora chiarita.